Bentornati, oggi parleremo di Horror Trip, la nuova rubrica dei fancazzisti anonimi per la quale ho composto la colonna sonora. Mi è stato richiesto durante la composizione di questa sigla di rispettare due fattori. Il primo è che doveva essere una rivisitazione, una specie di riarrangiamento del tema di Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger. Chi ha visto qualche episodio della saga ricorderà probabilmente la colonna sonora. La seconda richiesta per questa colonna sonora è stata che suonasse ovviamente un pochino retro, un pochino anni 80, nonostante ci siano anche alcuni elementi moderni. Ora vediamola nel dettaglio. Possiamo dividere la colonna sonora in cinque parti per poterla analizzare al meglio. La prima parte possiamo considerarla una parte ritmica, un cuore che pulsando dà il ritmo a tutta la colonna sonora. La seconda parte è una di quelle più dominanti all'interno della colonna sonora. Sono tre pad che durante tutto il pezzo si muovono per creare un'atmosfera un pochino più suggestiva. Come avete sentito uno di questi può essere classificato come choir pad, poiché assomiglia molto ad una voce. La terza parte è una delle mie preferite. Mi piace sempre giocare con le voci rendendole irriconoscibili, a molte volte tetre. Questa sezione è tutta dedicata alla manipolazione e al processamento di voci. Abbiamo il pianto di un bambino. Con un sacco di effetti, tra cui il riverbero e il delay. Abbiamo degli whisper, quindi dei sussurri. Anche questi abbastanza trattati con il riverbero e il delay. Abbiamo una voce distorta. Abbastanza inquietante. Abbiamo anche uno dei miei pezzi preferiti, ossia la voce del matto. Questo rende tutta la colonna sonora un pochino più inquietante. Non trovate? La quarta parte riguarda gli effetti ambientali. Sono quegli effetti che sentite molto spesso nei film dell'orrore. In questo caso si trattava di una campana girata al contrario, con un sacco di riverbero e il delay. Oppure questo. E infine un suono molto utilizzato, soprattutto nei trailer, ma anche in alcuni generi musicali. Alcuni lo chiamano low drone, altri lo chiamano boom effects. Insomma, questo. All'interno vi sono altri suoni ambientali che servono per rendere l'atmosfera ancora più tetra. L'ultima sezione riguarda la melodia. Come avevo detto all'inizio, dovevo far riferimento alla colonna sonora di Nightmare. Ho utilizzato dei pianoforti preparati e delle campane, che riescono ad amalgamarsi bene con il resto della colonna sonora. Infine, sempre in questa sezione, abbiamo un violoncello. Il violoncello è uno strumento molto versatile, si può utilizzare per un sacco di cose e, se utilizzato nel modo giusto, riesce anche lui a creare un'atmosfera un pochino tetra. Nell'ultima parte c'è un pianoforte, dal colore molto scuro, che porta alla conclusione tutta la colonna sonora. Quindi, vi presento Iron Dreams, la colonna sonora di Horror Trip. Iron Dreams Iron Dreams Iron Dreams Alleluia! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti